Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Sono molto lieto, a gentile richiesta e nella mia qualità di docente pioneer, cioè ambasciatore di Magic School, di inaugurare quest'oggi una nuova playlist qui sul mio canale, proprio dedicata a Magic School, sito di riferimento magicschool.ai, che considero ed è a tutti gli effetti una delle app più performanti a base di intelligenza artificiale per la didattica, curricolare e non. In realtà l'altro mio obiettivo è quello di raccontarvi che non c'è nulla da temere a proposito di intelligenza artificiale, ma ovviamente è un fenomeno da studiare e da utilizzare con attenzione come innesco, mi piace ricordare, cioè come stimolo da affiancare alle usuali attività didattiche scolastiche. Ecco, Magic School bene incarna proprio questo spirito. Sarà possibile da magicschool.ai registrarvi con il vostro account preferito. Chiaramente per l'uso didattico, quindi per l'uso scolastico, io consiglio sempre di utilizzare il proprio account istituzionale. A questo punto avremo subito accesso a questa dashboard, a questa bacheca, con le funzioni free, molte ed utili, già presenti in Magic School. Quest'oggi ci dedichiamo ad una piccola e utile funzione che è quella della, lo dico in italiano, sommarizzazione, cioè la possibilità di far sintetizzare ad una AI un testo. Perché dovrebbe una macchina sintetizzare un testo? Allora non si sviluppa più l'abilità di sintesi in capo ai ragazzi, tutt'altro. I nostri ragazzi e le nostre ragazze devono senz'altro imparare, grazie all'azione trasmissiva nostra, dei colleghi e delle colleghe, penso anche alle materie letterarie, a riassumere sì un testo. Però possono, adoperando ad esempio Magic School, capire come avrebbe potuto essere sintetizzato un testo ed avere un metro di confronto. Guardate inoltre com'è semplice utilizzare Magic School. Scorriamo piano piano l'elenco. Ora, qui vingolosisco, ma avremo modo di trattare le principali applicazioni qui interne. Sì, io posso anche creare un questionario con risposte a scelta multipla, vero o falso risposta aperta a partire da un video. Posso creare un lesson plan? Ebbene sì, ma vado ancora sotto. Vi faccio capire quanto sia ricca l'offerta di risorse. Ecco, scegliamo però Text Summarizer proprio per vedere la semplicità d'uso. Click. La risorsa Magic School è in lingua inglese, ma integra un efficacissimo modello di linguaggio IA che ci permette una traduzione efficace in varie lingue. Guardate, io potrei addirittura sintetizzare da un testo che già ho, cliccando sulla graffetta. Potrei leggere un lungo testo e vederlo sintetizzato, riconoscimento vocale, oppure fare un'azione di copia e incolla da una fonte. Vedete il paste di original che abbiamo in alto. Io ho già aperto, vedete, una scheda dell'enciclopedia Treccani. Da autore Treccani non potevo certo non farlo, anche perché raccontiamo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze sempre che la ricerca attiva delle fonti è fondamentale. Per con voi sperimentare la sintesi descrittiva delle fasi della seconda guerra mondiale, le fasi salienti, avrei potuto utilizzare una ricerca generica su Google in quanto motore di ricerca, ma non avrei dato il giusto valore all'accuratezza della fonte delle fonti. Treccani, sicuramente per la nostra lingua italiana ed anche per altri contesti storico-culturali, è una fonte autorevole. Partiamo anche da qui, quando diamo in pasto risorse digitali alle nostre classi. Ebbene, io ho selezionato, come potete vedere, due paragrafi almeno che nascevano già tali, ovvero le premesse, anzi il fallimento della società delle nazioni, poi scorro ancora sotto, guardate, le relazioni internazionali. Seleziono il testo, clic con il tasto destro del mouse, clicco tasto sinistro su copia. Torno sulla scheda text summarizer, io lavoro a schede aperte l'una accanto all'altra, quindi questa risorsa è utilizzabile su qualsiasi dispositivo mediante browser. Guardate ora, clicco tasto sinistro, posiziono il cursore, tasto destro del mouse, tasto sinistro su incolla, il testo è in italiano, attenti a cosa sta per accadere, poi preciso come io desidero il sommario, la sintesi, perché io potrei anche dirgli che voglio un elenco puntato, pensate dunque colleghi di sostegno all'ausilio, famoso innesco di cui ho parlato prima, per sintetizzare materiali o far sintetizzare i materiali ai nostri alunni BES e DSA. Io qui specifico che la lunghezza in questo caso per me deve essere di massimo una pagina articolata in due paragrafi, ma avrei potuto anche dirgli voglio una sintesi di 100 lines, quindi 100 righe virgola spazio, due paragrafi. Clicco sul tasto viola generate, il motto di Magic School è bellissimo, è teachers are magic. Guardate anche la velocità con cui il modello di linguaggio, con cui la IA lavora. Questa sarebbe la sintesi già formalizzata in inglese. Posso tranquillamente anche cliccare edit prompt e laddove io ravvisi degli elementi da correggere intervenire, ma se vado su actions all'istante posso ancora intervenire sulla lunghezza, ricavare domande da questi testi sintetizzati, questions, ulteriormente sintetizzare con il summarize, ma a livello pratico intanto a me interessa avere una traduzione in lingua italiana, quindi clicco su translate, lascio italian italiano, ma agendo sulla tendina avrei le altre lingue destinatarie della traduzione, clicco sul triangolo rovesciato che mi darà sempre la sensazione in Magic School di dialogare a mo' di programma di messaggistica. E state osservando sicuramente insieme a me che rimane sempre presente un box send message, perché io potrei dare istruzioni a Magic School anche scrivendole o dettandole del tipo, riassumi ancora il testo, fornisci mi un testo complessivo di 20 righe e vedere l'esito. Come possiamo notare? Abbiamo massimo una pagina, traduzione effettuata, due paragrafi. A questo punto cliccando su copy potrei trasporre questo testo in un editor di testi, un applicativo di video scrittura offline o online. Oppure posso cliccare export e esportare in Google documenti, in formato ancora proprietario in Microsoft Word, che poi è in realtà un formato che io posso gestire tranquillamente anche con il formidabile applicativo open source a base di software libero LibreOffice, oppure ancora posso cliccare su print e esportare in PDF questa mia sintesi. Guardate all'atto pratico come davvero abbiamo preso il nostro testo e lo abbiamo asciugato, non tanto per trovare per forza una scorciatoia, ma ad esempio per poter, dopo aver svolto in classe con carta e penna, con tablet, con Chromebook, con notebook, con vari dispositivi, una sintesi, e affiancare un ulteriore possibile modo di sintetizzare per apprendere da un'altra sintesi che non sia la mia, sempre mediato dall'uomo, perché queste applicazioni, ripeto, hanno lo scopo di innescare e di favorire l'apprendimento. Beh, questa è solo una piccola pillola di Magic School AI, di Magic School IA, non mi resta e non vi resta poi che accompagnarmi, grazie sempre, in questa nuova playlist perché scopriremo piano piano cosa Magic School possa fare per i docenti di ogni ordine e grado e non solo, perché in tempi recenti vi è anche già l'integrazione Magic School Student. A voi la prova su strada da Andrea Cartotto è tutto per ora, con un grande saluto a tutti e a tutte voi!